Amici di Marcosbox, benvenuti in questa quindicesima puntata del podcast di Marcosbox. Mi riallaccio alla puntata straordinaria che è stata pubblicata questa settimana, che ho realizzato per parlare del blocco delle estensioni su Firefox. Come vi siete di certo accorti se utilizzate Firefox come browser principale, su fine della scorsa settimana, a causa di un certificato scaduto, le estensioni in Firefox hanno smesso di funzionare o di fargli installazione su tutti i computer che utilizzano Firefox. Questo è un problema che è dovuto a un certificato scaduto che appunto viene utilizzato per firmare le estensioni. Il problema ha riguardato non solo il ramo, quello corrente, ma anche la versione ESR, quella dedicata diciamo così agli utenti aziendali, ma ha riguardato anche la versione per Android e tutti quanti i derivati di Firefox, perché Firefox ha anche dei browser derivati basati su Firefox, come ad esempio Waterfox o ad esempio il browser Tor, quello che viene utilizzato per navigare in anonimato sulla rete Tor. Questo problema appunto si è ripercorso anche su questi, in particolare quelli di Tor si sono lamentati di questo problema perché alcune delle funzionalità specifiche di quel browser sono gestite da estensioni, estensioni di terza parte, estensioni che potete installare anche voi, come ad esempio NoScript, estensioni che hanno smesso di funzionare anche su questo browser. In rete c'è stata una rivolta, perché? Perché diversi utenti si sono lamentati di questo problema, ma si sono lamentati anche del fatto che si sono trovati molto spesso costretti ad aggiornare all'ultima release per risolvere il problema, perché nel frattempo Mozilla prima ha distribuito un hotfix momentaneo tramite il canale Mozilla Study, poi ha distribuito delle minor release per tutti quanti le versioni di Firefox per poter appunto risolvere il problema. E dicevo, alcuni utenti si sono lamentati perché sono stati costretti ad aggiornare all'ultima versione e magari non volevano farlo perché per motivi di compatibilità aziendale o quant'altro. Quindi c'è stata una mezza rivolta, si sono arrabbiati anche coloro i quali sono costretti utilizzare Windows XP e quindi sono di fatto scoperti con l'ultima release di Firefox per Windows XP. Insomma un mezzo casino, un mezzo casino che di sicuro ha intaccato il buon nome di Mozilla. Per fortuna gli è andata di culo, scusate il termine, scusate il francesismo, che questo problema si è verificato nei weekend, perché questo ha limitato l'impatto negativo anche sugli utenti aziendali che fanno uso della versione ESR, proprio in virtù del fatto che la versione ESR è più stabile e più garantita, quindi gli fa comodo utilizzare la versione ESR. Comunque in settimana poi si è risolto tutto quanto, nei primi giorni, entro lunedì e martedì si è quasi risolto ovunque per tutte quante le versioni. Che dire, un danno in immagine notevole per Mozilla, speriamo che questi episodi non si verifichino più. Oltretutto questo episodio ha portato anche a uno slittamento della prossima versione stabile di Firefox che subirà alcuni ritardi rispetto alla tabella di marcia. Passiamo adesso al mondo Microsoft. Microsoft ha tenuto la Microsoft Build 2019, l'annuale conferenza per gli sviluppatori, dove ha annunciato diverse soluzioni software e quant'altro. Due sono quelle che interessano a noi utenti Linux. Lo scorso qualche anno fa ha annunciato la disponibilità Microsoft dei Windows subsystem per Linux. Quest'anno ha annunciato la seconda versione del Windows subsystem per Linux, WSL2 per gli amici. Le modifiche portate a questa nuova versione consentiranno un aumento delle prestazioni e la possibilità di eseguire più applicazioni Linux, come ad esempio Docker. Le singole distribuzioni Linux possono essere eseguite sia con WSL1 che WSL2, quindi indipendentemente potete scegliere voi la versione compatibile che volete utilizzare. Possono essere aggiornate o downgradate in qualsiasi momento ed è possibile eseguire distro WSL1 e WSL2 una fianco all'altra. ma la novità principale qual'è? È che WSL2 utilizza un'architettura completamente nuova che utilizza un vero e proprio kernel Linux. Non è la prima volta che Microsoft fornisce un kernel Linux, la prima volta è stata nel 2018 quando ha annunciato Azure Sphere. Tuttavia questa è la prima volta che il kernel Linux viene distribuito con Windows. Il kernel sarà compilato da Microsoft, viene prelevato direttamente dal ramo principale da kernel.org e verrà appunto compilato da Microsoft con delle ottimizzazioni che gli servono appunto per calibrare meglio tutto. Nelle versioni iniziali di WSL1 verrà utilizzato il kernel Linux 4.19, poi naturalmente verrà aggiornato. Verrà aggiornato appunto tramite gli aggiornamenti di Windows, questa è anche un'altra cosa molto importante. Ovviamente il kernel Linux compilato da Microsoft per WSL2 sarà completamente open source e non appena verrà rilasciato WSL2 verrà, la configurazione e tutti quanti parametri e quant'altro verranno rilasciati su GitHub. Canonical ha già annunciato che Ubuntu offrirà fin da subito pieno supporto a WSL2. Poi magari nel blog trovate maggiori informazioni a riguardo. Andatevi a dare una lettura più tecnica perché diciamo così questa è più una chiacchierata. L'altra grande novità che interessa a tutti gli utenti Microsoft e ad alcuni utenti Linux è che Microsoft ha annunciato Windows Terminal. Ebbene sì, Microsoft si è dotato, si doterà di un'applicazione terminale open source che è pensata per tutti quanti gli utenti che utilizzano riga di comando su Windows come per esempio per Command Prompt, per PowerShell o per appunto su Windows Subsystem per Linux. Windows Terminal verrà distribuita tramite Microsoft Store su Windows 10, verrà aggiornata regolarmente, quindi tutte quante le ultime novità verranno aggiornate di pari passo di volta in volta con un ciclo di rilascio più rapido, quindi non seguiranno gli aggiornamenti di Windows, ma appunto essendo un'applicazione standalone verrà aggiornata regolarmente tramite lo Store. Fra le funzionalità che troveremo c'è il supporto alle schede, ognuna delle quali può essere collegata una shell oppure un'app, che ne mettiamo una per PowerShell e l'altra appunto su Windows Subsystem per Linux e via discorrendo. Windows Terminal utilizza un motore di rendering del testo che fa uso della GPU che consentirà di renderizzare e di mostrare caratteri, grifi, simboli di testo, ideogrammi CJK, emoji che sono moltissimo importanti a quanto pare e quant'altro. Sarà ovviamente disponibile su GitHub, già disponibile su GitHub, quindi se volete contribuire, se volete cronare il repository, compilarlo, eseguirlo in anteprima sul blog trovate i link della pagina su GitHub oppure cercate Microsoft Terminal su GitHub e lo trovate. Che dire più di questa versione? Ah, e che verrà, anche questa è un'altra cosa diciamo così carina, di colore più che altro perché non è che influenzerà più di tanto, verrà utilizzato un nuovo font per questa applicazione terminale e anche questo font sarà open source e verrà rilasciato tramite un repository dedicato su GitHub. I tempi, si parla di Microsoft conta di rilasciare le prime versioni, le prime anteprime verranno rilasciate ai Microsoft Store quest'estate e la versione 1.0 entro la fine dell'anno. Già ho visto diversi amici che gli è salita la scimmia sulle spalle, non vedo niente di provarlo. Passiamo adesso alle distribuzioni vere e proprie e parliamo di Ubuntu. La scorsa settimana vi avevo annunciato che erano disponibili le prime ISO dei Ubuntu 19.10, questa settimana Canonical ha annunciato in maniera indiretta perché è stata soltanto aggiornata la pagina su Launchpad, il nome in codice di Ubuntu 19.10. Ubuntu 19.10 si chiamerà Ioan Hermine, perché mo' se ho problemi di R quindi non avete capito niente. Comunque sarebbe Hermellino, Hermine, Hermino, non so come cacchio si pronuncia in inglese. Vabbè, quindi l'animale Trotem di Ubuntu 19.10 sarà appunto Hermellino. L'altra parte del nome, Ioan, è un aggettivo che significa relativo all'alba o relativo all'est a seconda dei dizionari dove andate a consultare. Comunque, il riascio previsto è per il 17 di ottobre 2019. Vi avevo già detto la scorsa settimana quali saranno le novità principali introdotte, quindi andatevi a ribeccare il vecchio podcast. Ultima notizia della settimana, mi è tornato finalmente il mio A2 Lite, dopo un viaggio di assistenza di quasi un mese. Finalmente l'assistenza, quella nazionale ha riconosciuto il difetto al display e ha effettuato una sostituzione del display frontale, soprattutto il frontale. Almeno nella bolla d'accompagnamento c'è scritto After Sale Front Cover Display Module, che poi sarebbe quello del Redmi 6 Pro. Su questo sono contento perché finalmente mi hanno ridato il telefono, ci hanno messo un'infinità di tempo. La prima volta l'hanno anche sbagliato, quindi per me è stata un'enorme perdita di tempo. Comunque, finalmente mi è tornato tra le mani e il problema è stato risolto. Non è stato risolto però il problema software, quello non dipende dall'assistenza, ma dipende da Xiaomi. Vi ne ho parlato già le scorse volte, c'è un bug all'interno della ROM che è stato introdotto con Android Pie, che in presenza di reti Wi-Fi a 2,4 GB c'è problemi di velocità. La navigazione scende a livelli parolosi, a volte scende a di sotto anche di 1 MB al seconde di download. Per poter ripristinare la velocità bisogna disattivare o Bluetooth o il GPS o viceversa utilizzare la rete a 5 GHz. Se avete un router a 5 GHz potete sfruttare appena la banda momentaneamente fino a quando non verrà data una risoluzione a questo problema. Se invece non ce l'avete o, come me, vi trovate a dover andare in postazioni dove le reti Wi-Fi non potete accedere, quindi non c'è possibilità di attivare i 5 G dove è possibile, o non c'è proprio i 5 G nei router ai quali mi connetto, vi ritrovate con un telefonino di fatto castrato. Xiaomi è a conoscenza del problema, personalmente ho fatto diverse telefonate e ho mandato diverse email. Tutte quante mi hanno sempre risposto, eh ma è un problema di Google per creare e rilascio gli aggiornamenti, comunque è team e conoscenza, risolveremo più presto. Il bug è stato segnalato anche da altri utenti, quindi non è un bug relativo soltanto a me. Lo trovate sulla Mi Community, trovate su XDA, trovate ovunque informazioni relative a questo bug, che tra prende si è presente anche su alcuni Mi A1, quindi qualche cosa che loro sanno da diverso tempo, lo sanno, sanno di questo problema, da dicembre siamo a maggio, ancora non risolvono, con le patch, le ultime patch che sono state rese disponibili per le Mi A2 Lite sono quelle di marzo, mentre vi sto parlando speriamo che in quelle di maggio provvederanno a risolvere il problema, anche se dubito fortemente che verrà mai risolto questo problema. A mio avviso io continuo a dire che questo tipo di assistenza da parte di XIAOMI non è un'assistenza buona, poi col tempo ho imparato che anche altri utenti che erano soddisfatti a XIAOMI nascondevano dei scheletri nei armadio che erano proprio in software e quant'altro ogni tanto che vengono aggiunti, ottimizzazione, scordiamocela. La prossima volta mi adeguro di conseguenza e passerò ad altri brand di sicuro. Bene, con questa notizia ho concluso, lunga vita e prosperità, ci vediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!